Il fronte del Comitato Anopeos ha confermato anche stamattina la propria unione. A Palazzo di Città si è tenuta infatti una riunione operativa a cui hanno preso parte il Vice Sindaco Angelo Gambiano e l'Assessore Massimo Licata d'Andrea in rappresentanza del Comune, il Sindaco di Palma di Montechiaro Pasquale Amato, l'Assessore Giuseppe Ventura del Comune di Gela, oltre a Fabio Leopardi e Valentina Cassarino del Comitato Difesa del Golfo. In fase di studio c'è una grande manifestazione, seguita da un convegno, da ospitare nella città di Gela nella prima parte del mese di aprile che possa coinvolgere tutti i comuni costieri interessati dall'eventuale installazione dei pali eolici sulla quale si attende inoltre il ricorso per la sospensiva presentata al Tar del Lazio e che dovrebbe andare a sentenza entro la prima metà di aprile. Licata ha avuto l'onore di ospitare le rappresentanze istituzionali dei comuni limitrofi con i quali sta condividendo questo percorso. Questo percorso per dire che non ha un'installazione di questo tipo, un'installazione che mortificherebbe i territori. Perché poco fa in un intervento che ho fatto in quella sede ho detto che la politica deve operare delle scelte. Operare delle scelte significa tutelare gli interessi di una comunità. A fronte di un'installazione di un parco eolico offshore io mi aspetto che la comunità abbia dei benefici. Infatti ho detto quali sono i benefici per la comunità? Nessuno perché è un'installazione privata. E allora di che cosa stiamo discutendo? Di un'installazione a due miglia dalle coste che mortificherebbe, ripeto, i territori. Territori che stanno cercando di rialzare la testa e stanno cercando di offrire, di avviare quel percorso di sviluppo turistico che potrebbe offrire tante opportunità insieme all'agricoltura, insieme alla pesca, ai nostri territori. Quindi sul piatto della bilancia non si tratta di valutare e di fare una scelta su ciò che verrebbe a essere installato nei nostri territori, ma dall'altro dei benefici che i territori ne potrebbero trarre. Bensì si tratta solo di una scelta imposta dall'alto e questo credo che noi come rappresentanti di comunità non lo possiamo accettare. Per questo in questa sede si sta valutando l'opportunità di porre in esse delle azioni condivise con un convegno che si svolgerà nella città di Gela. L'assessore Ventura e il sindaco Fusulo ci hanno dato la disponibilità, avrebbero il piacere di ospitarci nella loro città. Giusto che già diversi incontri si sono svolti nella nostra città dedicata, di questo ne siamo onorati. Quindi saremo presenti a Gela per continuare questo percorso.